L'accompagnamento dei bersaglieri di cui è stato parte nonno Eraldo, quello dei compagni di liceo della nuova scuola, dell'oratorio, degli amici scout, dei compagni di squadra del muraglia del fratello Davide, fino a centinaia di pesaresi di ogni età, tutti toccati nel profondo dalla prematura scomparsa di Sofia Fraternale, venuta a mancare ad appena 16 anni, riuniti in quasi 2000 persone nel campo sportivo di Loreto, nell'ultimo saluto a quella piccola stella restituita al cielo, riuniti in un immenso abbraccio di conforto al dolore della famiglia fraternale, di mamma Lucia, di papa Massimo e del fratello Davide che da un anno e mezzo sono stati al fianco della battaglia di Sofia, una battaglia contro un tumore diagnosticato nel febbraio 2022, due giorni prima del quindicesimo compleanno di Sofia, una battaglia in cui Sofia è stata esempio del significato più profondo della vita, come ha ricordato Don Giuseppe Fabbrini nell'Omelia, dove ad essere significativo non è quanto a lungo vivi, ma la testimonianza che lascia la tua esistenza e Sofia nella malattia ha vissuto la sua adolescenza con la pienezza dell'intensità che si deve al più prezioso dei doni, un dono che purtroppo nel suo caso si è rivelato estremamente fugace, un'esistenza breve ma piena come ricordato dal florilegio di immagini radiose confezionato dagli amici a quella piccola stella, amici al suo fianco nell'ultimo viaggio omaggiato dalla musica, da palloncini bianche e gialli, dai messaggi di infinito amore scritti sulla bara. Così, come voluto da mamma Lucia, l'ultimo saluto è stata una festa capace di andare oltre lo sconforto ma di celebrare un amore che sa essere più potente della morte. Una festa salutata da un lungo, lunghissimo applauso.